Sì, è stato un vero piacere, un vero onore poter ospitare nell'atrio d'onore del palazzo della provincia d'Arezzo due grandi artisti della Costa d'Avorio che per quasi un mese hanno lavorato alla creazione di due opere d'arte che poi hanno esposto, stanno esponendo in questo momento alla Biennale di Venezia. Un'occasione per noi per far conoscere il nostro territorio ma anche appunto per creare un collegamento culturale e di integrazione appunto attraverso l'arte e la cultura. L'idea della Biennale è nata da un atto di beneficenza, diciamo così, perché abbiamo messo alcune opere all'asta durante il periodo del Covid, c'è stato un'asta e tutto ricavato è stato devoluto all'ospedale di Milano per le cure del Covid. Guarda caso quando fai del bene, del bene arriva, le opere sono state acquisite, comprate da un curatore di Roma e nel momento in cui siamo andati a consegnare le opere stesse ci ha proposto di collaborare con l'ambasciata della Costa d'Avorio per il progetto della Biennale. Da lì sono passati due anni e il 20 aprile del 2022 fino al 27 novembre abbiamo la Biennale di Venezia e abbiamo allestito il padiglione della Costa d'Avorio. Sono due artisti tra i più significativi e noti dell'ambito africano, sono due della Costa d'Avorio e soprattutto uno è veramente, credo di dire, uno tra i primi tre artisti noti internazionalmente, artisti africani. Quindi si parla di grandi nomi, si parla soprattutto di grande qualità. È una pittura di contaminazione, è una pittura che guarda i grandi graffitisti americani e guarda insieme all'origine negroide della contaminazione contemporanea. Quindi insieme l'origine e la fine, insieme l'inizio e l'eclissi del rapporto col contemporaneo. Quindi guardando questo tipo di pittura c'è assolutamente evidente la somma di quello che la cultura occidentale è andata a cercare in Africa.